Buon pomeriggio a tutti, è il 6 settembre, siamo puntualissimi, 14.30. Approfitto subito per i convenevoli di inizio diretta, per dirvi che anche la diretta di domani ci sarà alle 14.30, quindi restiamo nell'orario tradizionale dei giorni feriali. Come al solito vi voglio chiedere per favore di pigiare su questa freccetta dove leggete e condividi, in modo tale da poter naturalmente allargare il numero delle persone che guardano queste dirette, ma potete farlo naturalmente anche dopo perché ovviamente di questa diretta poi resterà un video che lascerò sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul mio blog www.ivanscalfarotto.it ovviamente anche in quel caso potete pigiare, condividi per condividere il video che ne resterà. Dico subito che la diretta di oggi è piena di cose e quindi dovrò fare uno sforzo immane per restare all'interno di 15 minuti che mi sono dato come limite massimo per non annoiarvi troppo, ma in realtà sono successe molte cose. Diciamo che per cercare di sintetizzare dirò che il primo capitolo della diretta di oggi lo intitolerei Le retromarce del governo, poi è un capitolo che meriterebbe tutta una serie di paragrafi, ma insomma diciamo che il governo che era partito con delle grandissime fanfare in realtà sta man mano rimangiandosi tutte le cose che aveva promesso, tutte le cose che avevano detto avrebbero fatto, questo famoso governo del cambiamento. La prima che voglio ricordarvi, ne abbiamo parlato soltanto qualche giorno fa, ricordate che Di Maio aveva detto ma noi ma che ci interessa delle agenzie di rating, le agenzie di rating sono una cosa che non serve, noi figuriamoci se tradiamo le aspettative del popolo italiano per quello che dicono le agenzie di rating. Evidentemente qualcuno deve aver spiegato a Di Maio, oltre al fatto che non siamo fatti del 90% di acqua come le meduse, insomma che è l'ultima butade del vicepresidente del Consiglio, qualcuno gli deve aver spiegato, probabilmente la lettura dei giornali che qualcuno spero avrà fatto per lui, che invece il giudizio non tanto delle agenzie di rating ma degli investitori, e quindi lo spread e quindi gli interessi che paghiamo sul debito pubblico, sono una cosa che ha assolutamente a che fare con la schiena degli italiani a proposito di coltellate o di pugnalate. E quindi dopo una delle varie riunioni nelle quali stanno cercando di mettere a punto la legge di bilancio e la nota di variazione al DEF che deve arrivare in aula entro la fine di settembre, Di Maio è venuto a consigli molto più miti, dicendo che la loro manovra non preoccuperà i mercati, sarà una manovra che assolutamente non turberà il sonno delle agenzie di rating. Quindi siamo partiti dicendo ma chi se ne frega del 3% del deficit, spendiamo, spandiamo, le accise, le pensioni, la flat tax, la fornero, il reddito di cittadinanza e chi più ne ha più ne metta, ma mi pare che questa sia stata una marcia indietro clamorosa. Ahimè, caro Di Maio, è importante tenere i conti in ordine, perché se non tieni i conti in ordine sono gli italiani che devono di tasca proprio pagare per la vostra irresponsabilità. Molto bene che tu abbia cambiato idea su questo. Ma non è soltanto questo. Adesso siamo nel pieno di un casino generale sulla vicenda dei vaccini. Ora, i giornali, adesso pare brutto dire i giornali non lo dicono, ma in realtà non lo dicono. Su questa vicenda dei vaccini, all'interno della conversione di questo famoso decreto Mille Proroghe, si è consumata una battaglia parlamentare nella quale il Partito Democratico ha fatto un'operazione molto importante di opposizione, visto che i giornali dicono che l'opposizione non c'è. Tutto al contrario, nelle audizioni che si sono fatte, nelle varie commissioni che si stanno occupando di questo decreto, sulla parte dei vaccini, il governo è stato in grandissimo, grandissimo imbarazzo, perché tutti i medici auditi, tutte le persone, diciamo gli esperti che la commissione, come succede sempre, ha convocato per avere il loro parere, hanno fatto a pezzi la norma introdotta dal Senato che, appunto, eliminava l'obbligo vaccinale. È stata una vera e propria caporetto, bruttissima, della maggioranza, tant'è che ieri sono dovuti tornare indietro e hanno dovuto decidere, hanno dovuto dire, avete visto ai giornali di oggi tutti titolano sul fatto, che l'obbligo vaccinale doveva restare. Ora, siamo... Questo psicodramma non finisce perché in queste ore cosa sta succedendo? Che poiché la figura di palta, mettiamola così, è stata clamorosa, adesso stanno facendo marcia indietro sulla marcia indietro e stanno cercando di introdurre un nuovo emendamento che in realtà toglierebbe di nuovo l'obbligo vaccinale, anche perché addirittura i Novax si volevano rivolgere a coda con solletto nelle agenzie delle cose pazzesche. Ma la verità, tenete conto che poi di questa retromarcia sulla retromarcia, cioè sul fatto che comunque pare che adesso l'obbligo vaccinale sarà tolto comunque, un deputato di 5 Stelle che si chiama Trizzino, Giorgio Trizzino, che è un medico, ha detto in commissione assolutamente che lui questa schifezza non la poteva votare ed è uscito dall'aula. C'è stata anche una deputata della Lega che ha votato contro. Quindi sono nel caos più assoluto perché sanno, gli è stato detto ed è evidentissimo che la loro posizione Novax è una posizione assurda, è una posizione, ma non so come dire, basata sulla superstizione, cioè siamo a occhio, malocchio, prezzemole, finocchio, cioè siamo alle fattucchiere, non so come dire, e questa gente leggifera sulla base proprio della superstizione, dell'ignoranza e quindi sono completamente in balia di se stessi e non si capisce proprio in queste ore in Parlamento cosa sia successo. All'ultima, sapete che si sta firmando, si è praticamente concluso l'accordo su Ilva. Ora Di Maio annaspa e cerca di dire che l'accordo l'ha chiuso lui, ma di fatto io voglio ricordare le cose come stanno. La linea ufficiale del Movimento 5 Stelle con la quale 5 Stelle ha fatto la campagna elettorale era che l'Ilva andasse chiusa, chiusa. Beppe Grillo ha detto che l'Ilva, dell'Ilva, bisognava disfarsi e trasformarla in un lunapark, in un parco giochi sull'archeologia industriale. Parliamo della più grande acciaieria d'Europa e di un'acciaieria che sostiene la seconda potenza manifatturiera d'Europa che è l'Italia. Come si può pensare che un paese industrializzato come l'Italia non produca acciaio? Come si può pensare di lasciare per la strada 20.000 persone? E quella era la linea di chiudere l'Ilva, loro chiudere l'Ilva contro la TAP, contro la TAV, questa è la loro linea. Quando Di Maio poi è arrivato al governo ha cominciato a dire, a fare tutte le manfrine che avete visto, che la gara non era regolare, che era irregolare ma non si poteva annullare, si è rivolto a Cantone, si è rivolto all'avvocatura dello Stato, ha perso una montagna di tempo. Alla fine che cosa ne rimane? Rimane che l'Ilva non chiuderà, che il compratore sarà quello che è stato selezionato con la gara che ha fatto Carlo Calenda, che insieme a Teresa Bellanova hanno fatto un lavoro enorme sull'Ilva. Il resto sono dettagli, ovviamente che vengono, dettagli importanti, stiamo parlando dei posti di lavoro e quindi ci saranno sicuramente delle modifiche rispetto all'accordo che era stato concluso diciamo alla fine del governo precedente, ma la verità è che quello che si è sventato è che l'Ilva chiudesse, che l'Italia si privasse di un'azienda così importante per la nostra economia e proprio per la natura della nostra economia e il governo ha dovuto fare una marcia indietro radicale quindi non soltanto la gara non sarà annullata, non soltanto l'Ilva non sarà chiusa ma l'Ilva sarà venduta come previsto a Arcelor Mittal che aveva vinto la gara precedente e il buonsenso ha prevalso. Quindi una retromarcia completa adesso ci aspettiamo di vedere che cosa succede nella manovra economica vedremo quante altre retromarce, a quante altre retromarce dovremo assistere ho ancora tre cose rapide da dirvi però è importante che ve le dica spero di, forse qualche minuto ce l'abbiamo ancora, nel frattempo mi raccomando di condividere la freccetta è sempre lì il Tribunale del Riesame ha stabilito che la Lega deve i 49 milioni di euro li deve tirar fuori ora io penso che la battaglia politica non si debba mai fare su base giudiziaria per carità la battaglia politica va fatta sulle idee e però le leggi dello Stato dovranno pur servire a qualcosa insomma bisognerà pure inchinarsi alla sovranità della legge questo deve farlo evidentemente anche la politica quello che mi ha colpito è un passaggio delle motivazioni del Tribunale del Riesame che mi sono trascritto perché voglio leggervele perché sono secondo me molto significative dice il Tribunale che la Lega ha direttamente percepito le somme qualificate in sentenza come profitto del reato e quindi ora non può invocare le stranetà del soggetto politico rispetto alla percezione delle somme confluite sui suoi conti e dalle quali ha tratto un concreto e consistente vantaggio patrimoniale qui il Tribunale dice i soldi li avete presi sono profitto del reato li avete presi ne avete direttamente goduto e quindi non potete invocare le stranetà del soggetto politico rispetto a questi comportamenti soldoni non è che adesso ci sia un nuovo segretario come Salvini rende la cosa più semplice perché i soldi sono arrivati sui vostri conti e li avete utilizzati ed erano il profitto di un reato quindi non state a dire che non eravate voi ora io ripeto non voglio fare la lotta politica su questo però mi viene da chiedere a chi ha professato l'onestà come unico manifesto come unica linea politica presente nel suo partito come il Movimento 5 Stelle perché poi il Movimento 5 Stelle tolta l'onestà non resta praticamente più niente l'onestà dichiarata perché poi anche loro hanno avuto le loro grane voglio dire fior di esponenti 5 Stelle sono indagati per reati anche gravi il punto è quando un tribunale scrive una cosa del genere il Movimento 5 Stelle che cosa ha da dire? l'onestà che fine fa? dove sta di casa? ecco questa è la domanda che mi pongo altre due cose ancora e poi chiudiamo una vicenda importante in India la Corte Suprema ha depenalizzato l'omosessualità è secondo me una tappa estremamente importante perché l'India sapete ha più di un miliardo di abitanti e quindi possiamo dire bene che oggi da oggi un settimo, un sesto della popolazione mondiale è più libera è un passo importante tra l'altro le parole che la Corte Suprema utilizza sono parole importanti sono parole solenni e penso che sia una tappa di civiltà per l'intera umanità il fatto che in un paese così grande, così importante, così influente così anche in crescita nella politica internazionale si prende una decisione di questo genere quindi brindiamo a questa decisione e poi una cosa che riguarda Milano ma non soltanto c'è stata qualche giorno fa la presentazione di Milano XL dell'edizione del 2018 di Milano XL per chi non sapesse Milano XL che cos'è si tratta di una grande manifestazione la cui prima edizione c'è stata l'anno scorso nella quale sostanzialmente si sono messe insieme tutte le fiere che hanno a che fare con il nostro tessile e abbigliamento allargato agli accessori e alla cosmetica quindi tutte le fiere che si occupano di tutto ciò che il bello, il ben fatto il made in Italy dal punto di vista appunto degli accessori, della cosmetica gli occhiali, i gioielli, i vestiti tutto un'industria che non è un'industria dell'effimero e badate bene perché qui parliamo di un'industria che fattura più di 100 miliardi all'anno che esporta per 66 miliardi all'anno che dà lavoro a più di 600.000 persone in 70.000 aziende quindi è un settore del nostro made in Italy della nostra economia fondamentale col nostro governo abbiamo creato abbiamo coordinato i calendari di tutte queste manifestazioni per fare in modo che a Milano avvenissero tutte negli stessi giorni e che la città si accendesse un po' di questo evento attraendo come fanno già in altri posti come per esempio a Parigi i visitatori, la stampa specializzata i buyer di tutto il mondo è stato uno sforzo importante fatto l'anno scorso che abbiamo già pianificato prima della fine della legislatura per quest'anno c'è stata la conferenza stampa di presentazione c'erano Beppe Sala, il sindaco di Milano c'era Cristina Tajani l'assessore alle attività produttive di Milano c'era Alicia Mattioli la vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione c'era Michele Scannavini il presidente di ICI Agenzia la nostra agenzia per le esportazioni ma il governo era assente questo mi preoccupa moltissimo perché si tratta, come ho detto di una manifestazione estremamente importante per la nostra economia e per il nostro made in Italy e questo disimpegno del governo questa assenza non c'era il ministro Di Maio non c'era il sottosegretario Geraci mi fa molto preoccupare perché non vorrei che questo fosse il primo passo verso un più ampio disimpegno ovviamente noi aspettiamo che il governo rifinanzi il piano straordinario per il made in Italy e staremmo evidentemente con grande attenzione a verificare cosa fanno o non fanno però certo si riempiono la bocca sul made in Italy e davanti a una presentazione di un evento così importante che riguarda una città come Milano città tra le più visibili tra le più visitate in questo modo più visibili al mondo più visitate più sotto l'occhio dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale c'erano tutti c'era la città c'era la confindustria c'era l'ICE ma non c'era il governo una brutta caduta dal punto di vista dell'immagine ovviamente la stampa specializzata ne ha parlato come dico appunto si è voluto mettere insieme il ministero del turismo e dell'agricoltura facendo delle strane composizioni con la scusa di tutelare il made in Italy e poi quando c'è da fare un passo concreto per un settore così importante il governo non si vede quindi retromarcia da un lato e assenza dall'altro questo governo non promette nulla di buono io mi fermo qui meno di 15 minuti vi chiedo ancora di condividere questo video e vi do appuntamento per domani venerdì 7 alle ore 14.30 l'ultima cosa oggi sono alla festa dell'unità di Milano alle ore 18.30 a presentare un libro sulla Cina molto interessante domani sono a Padova con Alessandro Zan sabato sono alla festa di Reggio Emilia lunedì invece qui a Milano ci sarà Matteo Renzi alle ore 21 alla festa dell'unità quindi ci vediamo se non qui magari di persona a presto ciao ciao